Ciao a tutte, ciao a tutti e bentornati alle dirette di Stars in the City. Benvenuti a tutti, buonasera, ciao Ines, ciao Samuela, ciao Misea, ciao Cristina. Allora ragazzi, benvenuti a questa diretta. Questa è una diretta molto interessante perché analizzeremo il passaggio e comunque le simbologie dell'incontro fra il nodo lunare nord in gemelli e Marte nei 12 settori del tema natale. Quindi elencherò innanzitutto dal primo all'undicesimo settore e poi risponderò alle vostre domande. Voglio innanzitutto introdurvi, anche se ho scritto alcuni post, voglio introdurvi questo transito perché si chiude un ciclo che è iniziato intorno a nella prima quindicina di maggio del 2002. Quando Saturno, Mercurio, Venere, devo andare a guardare, nodo nord, Saturno, Mercurio, Venere e forse c'era anche Marte. Comunque c'era un allineamento celeste di pianeti in gemelli che soprattutto, ragazzi, veniva raggruppato e sensibilizzato da Saturno. Dava inizio a, innanzitutto chiudeva un ciclo iniziato 19 anni prima. Poi insomma, se vorrete, vedremo il ciclo che nel 2002 si era chiuso. Ma quando Saturno e il nodo si incrociano, arriva nelle nostre vite, nel settore del nostro tema natale che abbiamo nel segno dei gemelli. arrivano delle situazioni scaturite da Saturno che è il signore del karma e ragazzi quando c'è Saturno arrivano incontri, incontri destinati. Quando c'è Saturno arrivano situazioni che bisogna assolutamente vivere per far cosa? Innanzitutto per crescere, perché Saturno in gemelli indica che si potrebbe attraversare qualche prova o comunque un test, un esame di maturità per vedere se siamo pronti a passare da gemelli, quindi da adolescenti, da mercuriali, da figli, mercuriali, figli, ad una fase più adulta. Quindi è un test. Quando c'è Saturno, se non abbiamo seminato bene, a volte si presenta la prova. Se uno ha fatto il suo lavoro quotidianamente, cosa che consiglio sempre a tutti, Saturno elargisce dei doni, cioè elargisce delle promozioni, perché comunque è il grande maestro. E quindi con quell'allineamento fantastico di pianeti nella prima quindicina di maggio del 2002 sono successe molte cose nelle vostre vite, le abbiamo viste nei giorni scorsi e adesso si chiude un ciclo. Perché? Perché si crea nel cielo, non abbiamo il ritorno di Saturno col nodo nord, ma abbiamo Marte che attiva le situazioni, che si incontra col nodo nord in gemelli che comunque, ritornando nello stesso segno dopo 19 anni, chiude quei cicli e questa volta io so che saremo stati più o meno tutti promossi o comunque alleggeriti perché il nodo nord e Marte questa volta sono in trigono con Giove, sia con Giove che con Saturno. Quindi è come se quell'anno è stato sicuramente un anno molto particolare e sicuramente per tutte le persone che avevano dei valori in gemelli importanti è stato un anno di grande crescita che a volte passa attraverso le prove. Quest'anno sembra più buono con noi. Per il trigono di Giove e Saturno poi mi direte le vostre testimonianze. Quindi chi adesso, come allora, ha il nodo nord in gemelli congiunto a Marte nella prima casa, quindi mi sto riferendo all'ascendente gemelli, allora chi ha l'ascendente gemelli intorno ai 10-15 gradi ascolti questa previsione. Se avete un ascendente gemelli di terza decade, allora conviene che ascoltiate probabilmente l'ascendente cancro. Comunque ascoltate. Chi incontra in questo momento Marte col nodo nord sull'ascendente sta chiudendo un ciclo, iniziato sempre nel maggio 2002, che chiude una questione relativa al personaggio. Nel 2002 ci furono quindi Saturno, Mercurio, Venere, il nodo nord sulla prima casa e quindi molte persone che hanno l'ascendente in gemelli si sono trovate a dover crescere, a dover assolutamente crescere, a dover essere promosse all'età adulta, a superare delle prove per dimostrare di essere diventati adulti o comunque di reggere sulle spalle delle prove, di poter reggere delle responsabilità. Probabilmente qualcuno di voi ha sacrificato l'adolescenza o magari ha perso qualcosa in termini di leggerezza, di dispensieratezza. Magari qualcuno ha dovuto rinunciare a studiare o qualcuno ha sofferto tantissimo pur di portare a termine una prova di studio o comunque una laurea o un percorso di studi. Potrebbero esserci state delle prove con i fratelli, con gli amici. Insomma, anche con delle prove relative alla salute, l'ascendente gemelli è legato al sistema nervoso, al sistema nervoso, a malattie polmonari. Quindi, insomma, qualcosa legato alle simbologie della prima casa, dell'ascendente e le simbologie dei gemelli. Adesso, dopo 19 anni, il nodo nord ritorna, ritorna in prima casa, nella vostra prima casa, cari ascendente gemelli, con Marte e Marte è l'azione. Quindi lo riattiva, lo riattiva. Però questa volta, per chiudere il ciclo, abbiamo il trigono di Saturno e di Giove, quindi la fortuna, gli assist. Un trigono di Saturno e Giove che arriva dall'ottava casa, perché l'ascendente gemelli ha l'ottava casa in acquario, e quindi qualcuno della vostra famiglia, un'eredità, un'eredità morale, un talento, qualcosa che si attiva e che comunque conferisce, anche il coniuge, ragazzi, l'ottava casa spesso è relativa, non soltanto all'eredità, non soltanto alle rinascite, ma anche è la casa del coniuge, non dei partner così, ma proprio della casa del marito o della moglie, quindi delle relazioni legalizzate. Quindi ci arriverà un assist molto fortunato dall'ottava casa, dal coniuge, dall'eredità, da una capacità di risorgere, e quindi questa pratica si chiuderà molto probabilmente, insomma, a meno che non abbiamo seminato proprio un malissimo, si chiuderà in maniera super positiva, quindi dandoci un upgrade, un valore aggiunto, un aumento dello status, un aumento del prestigio, perché stiamo parlando dell'ascendente che è sempre il personaggio pubblico, quindi c'è qualcosa che riguarda la nostra immagine e quindi c'è assolutamente un miglioramento. Io spero che possiate darmi riscontro, anche se il transito sta avvenendo adesso, e quindi forse sarebbe meglio parlarne magari fra diverse settimane, quando l'avrete già vissuto, spulciato e incarnato, ma non è detto, insomma, che non facciamo un aggiornamento per vedere che cosa è successo nel frattempo. Poi leggerò nei commenti se qualcuno di voi, relativo alla propria immagine, ha già avuto delle esperienze, perché comunque dal 20, più o meno dall'equinozio di primavera, che questi valori, Nodo Nord e Marte, si sono messi, insomma, hanno iniziato ad avvicinarsi, calcolando, insomma, uno scarto di alcuni gradi. Passiamo all'ascendente toro, all'ascendente toro che ha un incontro, che chiude un ciclo, è un incontro in seconda casa, quindi a Nodo Nord e Marte in gemelli, in seconda casa. La seconda casa è la casa dei soldi guadagnati da noi in primis, ma è anche la casa delle dipendenze affettive economiche e anche emotive. Quindi c'è un po' di tutto. Quando siamo autosufficienti, si vede dalla seconda casa. Quando non siamo autosufficienti, quando non sappiamo fare le cose da soli, quando abbiamo bisogno di stare in coppia, in compagnia, quando qualcun altro deve aiutarci per il nostro sostentamento, o quando ci facciamo parassitare, oppure parassitiamo gli altri, perché abbiamo bisogno di attenzioni e di energia continua rispetto alle altre persone, spesso è implicata la seconda casa. Quindi è chiaro che qui, anche se non è una cosa manifesta, anche se non è una cosa forte, come l'ascendente, è una cosa molto interiore, ma altrettanto fortissima. Quindi si chiude un ciclo e quindi è il caso di fare un bilancio e chiedersi se si è riuscita ad essere indipendenti anche contro tutto e contro tutti, perché all'epoca c'era Saturno, indipendenti emotivamente ed affettivamente. Ovviamente, se ci sono dei pianeti, se questo nodo nord con Mar, congiunto a Marte, incontra dei pianeti, dei pianeti sul vostro ascendente di nascita, o scusate, ogni tanto mi distrago perché vedo dei commenti, mi sentite, giusto? Va tutto bene? Allora, se ci sono dei pianeti e quindi c'è questo ritorno, ovviamente le simbologie vengono amplificate o vengono caratterizzate dall'energia di quel pianeta, però ovviamente, ragazzi, per fare un discorso che soddisfi tutti, dovremmo fare veramente tantissime tantissime dirette, quindi vi basti il senso, perché è il senso quello che conta per riuscire ad usare queste dirette per lanciare proprio una guida astrologica. Quindi, cosa potrebbe accadere in concreto, posto che la seconda casa è quella dell'indipendenza economica, affettiva ed emotiva? Potrebbe accadere che, all'epoca, vi siete trovati ad avere una prova, quindi magari un abbandono o a dover provvedere a voi stessi, magari a qualcun altro, quindi questioni economiche, questioni affettive, quindi anche delle perdite, delle perdite magari premature, visto che c'era Saturno in gemelli, magari perdite emotive o forse avete sommatizzato tutta una serie di malesseri, malesseri magari psicologici a causa di una perdita. Quindi, poi quando si presenta un problema, spesso l'essere umano è così, l'essere umano non si impegna tutti i giorni, l'essere umano tendenzialmente inizia a guardarsi dentro e a mettersi in discussione quando le prove diventano molto impegnative. A volte non lo facciamo neanche quando la sofferenza è grandissima, tendiamo a dare la scusa, la colpa agli altri, tendiamo a non voler vedere, tendiamo ad evadere con le droghe, con l'alcol, con gli psicofarmaci, questo è tutto appannaggio della seconda casa, per questo ve li cito. Quindi, tendiamo a cercare dei pagliativi o comunque a non prenderci le nostre responsabilità. Questa è una casa molto responsabilizzante. Se non facessimo gli ignorri, se ci prendessimo delle responsabilità e ci auto-osservassimo, probabilmente Saturno non avrebbe fatto tanto male, insomma. Però, adesso, quello che è stato è stato. Quello che è importante magari è capire la lezione per andare avanti nel futuro. per andare avanti in maniera diversa, in maniera più consapevole, per non mettere gli stessi passi dove li abbiamo messi nel passato. Quindi, un ritorno del nono nord con Martin Gemelli in seconda casa. Riattiva o le questioni economiche o le questioni, quindi siete diventati indipendenti, siamo diventati indipendenti, riusciamo a stare da soli, dipendenza emotiva, ci siamo privati di qualche dipendenza che avevamo dallo shopping, le dipendenze da droga, le dipendenze dal cibo. Ragazzi, ci sono tantissime forme di dipendenza. Ecco, quel bilancio che è probabilmente positivo perché il nodo nord e Martin Gemelli ricevono un trigono da Saturno e Giove che sono in decima casa. È molto probabile che l'ascendente toro con Saturno e Giove al medio cielo sia riuscito a realizzare, si è lavorato bene a realizzare i propri sogni e quindi ovviamente sia affrancato da dipendenze, schiavitù, quindi insomma è diventata una persona solida con delle radici veramente, veramente solide. quindi io ve lo auguro, ve lo auguro perché insomma il cielo è veramente benevolo quindi iniziamo il ciclo che ovviamente si chiude, si chiude in maniera col bilancio positivo. Il ciclo che si apre è un ciclo insomma favorevole perché nasce col trigono di Saturno e di Giove quindi insomma le stelle nonostante apparentemente non sembri ci aiutano e ce ne accorgeremo nel lungo termine. Quindi ragazzi bravi, voglio sentire anche gli ascendente toro e le vostre testimonianze dopo cercherò di leggerle tutte e cerchiamo di andare avanti perché sono già le 21 e 21 quindi devo cercare di essere leggermente più stringata. Allora la Sara di Gaetano mi chiede può avere a che fare con il lavoro? Scusate l'ho dovuta leggere perché sì ovviamente lavoro come conseguenza di un miglioramento o un peggioramento economico. In quel senso sì ovviamente se l'ascendente toro avendo Saturno e Giove al medio cielo ci sono questioni lavorative in ballo ma magari di quello ne parleremo del ruolo di Saturno e di Giove nel nostro tema natale c'è già stata una diretta c'è già un video su YouTube ma possiamo sempre rifarlo insomma anche perché durerà un bel po' come transito. Ok quindi andiamo avanti passiamo all'ascendente ariete che ha questo incontro magico destinico nel terzo settore quindi si chiude un ciclo relativo allo studio innanzitutto quindi magari lauree oppure chi chi ha iniziato a studiare allora magari finisce adesso o magari chi insegna chi lavora nell'ambito della scuola potrebbe chiudere un ciclo potrebbe trovarsi a fare un bilancio che comunque tutto sommato è positivo è assolutamente positivo perché c'è il trigono di Saturno e di Giove quindi anche se una persona dovesse uscire da quel settore lo farebbe a cuor leggero comunque con delle consapevolezze non vivendolo come uno strappo quindi la terza casa è quella della comunicazione degli studi è la casa dei fratelli e delle sorelle o dei cugini se abbiamo dei cugini che per noi hanno un'importanza una rilevanza determinante nella nostra vita è la casa dei mezzi di trasporto potreste banalmente aver preso una macchina nel 2002 se l'avete tenuta un po' rifarla adesso faccio un esempio è il settore dei trasferimenti magari all'epoca avete avuto un trasferimento di ufficio o di lavoro o siete partiti per studiare fuori e adesso quella fase si chiude se non doveste ritrovare decollegamenti perché magari per quanto riguarda lo studio stiamo parlando di persone molto giovani magari abbastanza giovani per chi non insegna magari possiamo parlare di tutti gli altri settori comunque il ciclo che si apre che si chiude ma che si apre adesso e durerà altri 18-19 anni non ho ancora neanche controllato quando il nodo nord ritornerà se volete lo faccio insomma se volete non dico di farci una diretta ma magari un piccolo un piccolo articolo sì quando si richiuderà è chiaro che adesso inizia con dei presupposti positivi si dovrebbe chiudere con un bilancio positivo e si dovrebbe aprire con un bilancio altrettanto positivo quindi comunicazione anche il modo di comunicare se siete degli scrittori se siete dei giornalisti se siete delle persone che usano la parola se siete delle persone che lavorano sui social insomma la comunicazione cercate di fare un bilancio ovviamente questa è una diretta che si concentra sul bilancio dovremmo essere aiutati il trigono di Giove e Saturno ci aiuta a comprendere meglio e a risolvere meglio però molto molto dipende da noi quindi mi auguro di sentire il vostro riscontro perché insomma i gemelli nodo nord in gemelli in terza casa la terza casa ecco significante dei gemelli quindi queste valenze qui sono rafforzatissime sono veramente veramente rafforzate passiamo passiamo dopo l'ascendente ariete passiamo all'ascendente pesci l'ascendente pesci occupa in un settore così molto importante per le nostre vite perché comunque è un settore cardinale quindi la quarta casa ho ospite in quarta casa l'incontro il ritorno del nodo nord e di marte in gemelli ovviamente si chiude un settore che anche all'epoca si è verificato per l'ascendente pesci nella nella quarta casa quindi cosa può essere accaduto può esserci stato l'acquisto di una casa può esserci stato la vendita all'epoca di una casa può esserci stato qualcosa qualche novità relativa a dei componenti della famiglia siccome e adesso magari quegli avvenimenti arrivano a come dire ad una conclusione e c'è si chiude un ciclo e c'è una nuova fase una fase rinnovata ma il bilancio ripeto dovrebbe essere positivo potrebbe esserci visto che la quarta casa rappresenta il paese natio questo per tutti gli ascendente pesci di tutti i paesi potrebbe esserci un ritorno a casa un ritorno nella patria come magari all'epoca potrebbe esserci stato un allontanamento non è detto che si tratti di un viaggio di un ritorno dall'estero perché non stiamo parlando della nona casa stiamo parlando del quarto settore quindi della casa quindi può essere che all'epoca ci sia stato un allontanamento da casa perché all'epoca con Saturno in Capricorno ovviamente scusate con Saturno in Gemelli è tipico la simbologia di questa combinazione tipica di gente che lascia la casa dei genitori per emanciparsi e per andare magari a studiare fuori o a lavorare fuori o a fare il servizio militare fuori perché Saturno nei Gemelli indica proprio la fine della fase dell'adolescenza o comunque della spensieratezza e adesso potrebbe esserci un ritorno per esempio quindi un ritorno in patria oppure un allontanamento da casa dopo aver trascorso magari all'epoca siete tornati a casa e adesso decidete di riandare di tornare di andare lontano di cambiare insomma di cambiare luogo di cambiare casa oppure possono esserci delle novità dei nuovi arrivi dei nipotini dei figli i figli sono figli di fratelli magari comunque si potrebbe allargare il nucleo familiare o si potrebbe restringere perché magari qualcuno adesso parte magari è nato all'epoca persone magari nate all'epoca nel 2002 adesso a 19 anni decidono di andare via quindi torno sempre a sottolineare il fatto che il transito di adesso è molto più dolce il bilancio è sempre positivo all'epoca fu fu molto impegnativo fu una congiunzione un allineamento di pianeti molto molto particolare allora passiamo a un ascendente fantastico che sta che sta attraversando una fase molto come dire molto impegnativa molto importante insomma un nodo di svolta l'ascendente acquario l'ascendente acquario ha saturno di ritorno sulla prima casa quindi sull'ascendente dopo un ciclo qui abbiamo il macro ciclo e il micro ciclo dopo un ciclo di 28 30 anni quindi innanzitutto a livello di personaggio pubblico a livello di immagine pubblica potrebbero cambiare tantissime cose ragazzi e si sta chiudendo un ciclo che è iniziato tra il 1991 e il 1993 a seconda del grado del vostro ascendente il consiglio che vi do e che vi do sempre da quando saturno è tornato in acquario essendoci passata molti anni fa con saturno sull'ascendente il consiglio che vi do è quello di scegliere di fare delle scelte di non prendere delle decisioni sotto gamba cercate di scegliere il meglio per voi di selezionare molto di volervi molto bene di proteggervi molto di non fare le cose tanto per caso di non dire beh adesso faccio sta cosa così tanto poi si vede perché con questa energia l'energia di saturno all'ascendente le questioni tendono a cristallizzarsi a fossilizzarsi e a durare come minimo un ciclo di sette anni tanto sono i cicli i mini cicli di saturno quindi attenzione scegliete solo quello che è meglio per voi e quindi già l'ascendente acquario insomma sta chiudendo un ciclo iniziato nel 91-93 quindi di 28-30 anni un ciclo iniziato nel 2009 perché ragazzi hanno Giove sull'ascendente e mancava dal 2009 perché Giove impiega 12 anni a compiere il ciclo il giro completo dello Zodiaco attraverso i 12 segni perché Giove resta un anno in ogni segno più o meno ci sono dei insomma dei moti irregolari dal 2002 per esempio più Giove in Ariete che in Pesci ma insomma poi ne parliamo ci facciamo una diretta quindi l'ascendente acquario poi ragazzi voglio le testimonianze già si trova in un macro ciclo il micro ciclo di 30 anni di 12 anni e poi nel quinto settore ha il ritorno del nodo nord più Marte ora il quinto settore è il settore dei figli quindi semplicemente se all'epoca tra il 91 e il 93 siete diventati genitori oppure se nel 2002 siete diventati genitori adesso questi figli grandi con il ritorno di Marte quindi la questione si attiva il settore si attiva energeticamente trigono Saturno e Giove prendono e partono potrebbe esserci questa cosa qui oppure la quinta casa è il settore della creatività quindi chi svolge lavori creativi chi compie delle opere chi crea qualcosa che poi lascia ai posti rilascia al mondo sicuramente ha dei pianeti importanti comunque risente molto della quinta casa e ragazzi qui il discorso diventa vastissimo perché potresti aver iniziato a lavorare a un progetto che si è concluso adesso potresti aver iniziato una professione artistica o creativa legata molto alla comunicazione o per le scuole o teatro ragazzi la comunicazione insomma una quinta casa in gemelli è veramente polietrica è veramente polietrica e magari adesso potreste pensare visti i trigoni viste le questioni di cambiare vita di cambiare di evolvere magari di chiudere un settore della parte creativa e di farne iniziare un altro un'altra cosa molto importante io sono sicura che insomma i lavori creativi sono meno rispetti rispetto ai lavori insomma ai lavori più pratici no quello che sicuramente invece molti di voi riscontreranno è la questione sentimentale ed affettiva allora ragazzi la quinta casa è la casa dell'amore dei flirt dei fidanzamenti quando ci innamoriamo quando sta accadendo qualcosa riguardo a un fidanzamento novità sui fidanzamenti le cose spesso riguardano la quinta casa che non va confusa con la settima che è quella proprio delle relazioni del modo di relazionarsi di fare la coppia e del matrimonio quindi di di questioni più più legalizzate più ufficiali cosa potrebbe essere accaduto che all'epoca con quell'allineamento di pianeti con saturno insomma che un po' priva sempre quasi sempre può essere accaduto che all'epoca con la congiunzione di mercurio saturno venere nodo nord magari si è finito un amore oppure si è iniziato un momento di sofferenza una persona si è allontanata da voi probabilmente c'è stata una grande una grande sofferenza questa io questi ascendenti acquario insomma io il vostro feedback vorrei leggerlo magari ragazzi lo leggiamo in diretta la lasciamo qui su instagram se riesco a salvare la diretta e la metto su youtube la tagliamo insomma se volete questo ci mancherebbe però sicuramente può essere stato un momento molto doloroso o molto impegnativo magari può esserci stata una malattia all'epoca potreste esservi spesi veramente tanto potrebbe essere per qualcuno per un sentimento potreste essere diventati adulti maturi attraverso un un sentimento che magari vi ha fatto soffrire e in base a quanto vi siete spesi a quanto siete riusciti ad andare oltre il vostro interesse e siete riusciti a donare voi stessi adesso chiudendo questo ciclo insomma il bilancio non può che essere fortemente in in positivo magari all'epoca siete andati a convivere magari adesso state chiudendo la convivenza che avete iniziato allora o adesso dopo tantissimi anni perché succede succede perché va tanto di moda sposarsi ormai non più giovanissimi perché si è capito bene che il matrimonio è una cosa seria deve essere una cosa collaudata che non funziona che insomma che è pieno di magari di coppie infelici se andiamo a pensare a quelle persone che sono passate da casa dei genitori a casa del marito o della moglie senza essersi vissuti fuori senza essersi conosciuti realmente no e poi insomma se si rimane insieme non è certo una fonte di di felicità quindi magari chi all'epoca è andato a convivere o si è innamorato adesso può fare l'upgrade e quindi diventare marito e moglie quindi sono tante le cose interessanti della quinta casa ma sicuramente l'amore insomma è la principale secondo me è la simbolo amore e figli sono la la simbologia principale un'altra cosa che potrebbe insomma essere inclusa essere annoverata in queste questioni è il modo di divertirsi una quinta casa in gemelli può indicare una persona un po' cicala una persona un po' cicala una persona che magari passa molto tempo libero fuori cazzeggia conclude poco può essere che all'epoca magari si diverte un po' troppo no? magari non vuole diventare adulta e quindi continua ad avere sempre lo stesso modo di divertirsi magari andando per locali per bar come quando aveva 18 anni magari ne ha 40 50 che 60 ragazzi non poniamo limiti alla provvidenza quando c'è una quinta casa in gemelli importante c'è proprio un bisogno di leggerezza di una difficoltà a lasciare l'età adulta e cosa accade? che all'epoca se è passato Saturno se la cicala era andata in eccesso può essere che ci sia stata una prova no? quindi come mettete una persona che beve molto allora sta male e i medici ti dicono non ti puoi divertire più così no? quello è una cosa che potrebbe essere accaduta c'era Saturno ragazzi Saturno dice stop quando stiamo esagerando dice stop e adesso magari la persona è diventata morigerata in tutti questi anni ha uno stile di vita completamente più sano e quindi insomma magari iniziare a divertirsi in una maniera più equilibrata faccio degli esempi perché poi la vita ha una fantasia incredibile no? quindi le vostre testimonianze saranno sicuramente più più interessanti degli esempi che faccio io spero di aver reso l'idea insomma di questo transito così caratteristico per l'ascendente acquario e passiamo all'ascendente capricorno l'ascendente capricorno vede questo incontro questo ritorno del nodo nord di Marte in sesta casa qui e Saturno e Giove in seconda ragazzi qua la validità la simbologia è molto o lavoro lavoro quindi una promozione sul lavoro magari lavoro che probabilmente è un lavoro magari nelle comunicazioni un lavoro burocratico un lavoro mercuriale è un lavoro comunicativo una sesta casa in gemelli può essere per esempio l'insegnamento qui c'è con Saturno complice la chiusura di questo ciclo il trigono di Saturno e Giove in seconda casa potrebbe esserci una promozione mette presente chi insegna tutta la vita poi diventa preside oppure faccio un esempio quindi un upgrade anche in questo caso se ovviamente abbiamo seminato bene se abbiamo seminato male niente si rimane così o ci sono i richiami o magari ragazzi un licenziamento chi può dirlo chi può dirlo insomma come non siamo tutti uguali c'è qualcuno che magari ha fatto di tutto magari per perderlo un lavoro un altro esempio molto particolare molto tipico potrebbe essere qualcosa relativo alla salute alla salute perché Saturno e Giove in seconda casa indicano appunto come stavamo dicendo prima la morigeratezza il non dipendere magari il non avere degli eccessi accessi magari a tavola eccessi con dei vizi che non fanno bene alla salute e quindi all'epoca magari può esserci stato un problema di salute un essere statile darguiti per lo stile di vita e adesso si chiude quel ciclo magari con un bilancio attivo un'altra un'altra cosa che può essere accaduta questa capita nel caso in cui abbiate nel tema natale dei pianeti in sesta casa in gemelli vi ricordo sempre che i pianeti può riguardare anche un animale domestico no quindi segnare l'inizio e la fine di un animale domestico per esempio 19 anni insomma sono un'età apprezzabile perché la sesta casa è anche quella degli animali domestici ve la dico sempre questa cosa altrimenti me ne dimentico quindi questioni di salute questioni lavorative e l'ultima ultima chicca ragazzi la sesta casa se ci sono dei pianeti nel vostro tema natale e ora marte e il nodo nord ci tornano su e all'epoca ci fu saturno ai 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 la sesta casa è quella che se ospita dei pianeti rappresenta i difetti del carattere cioè quella parte del carattere del soggetto che andrebbe limata corretta insomma sistemata perché altrimenti rappresenta un ostacolo per il soggetto mentre la quarta casa è quella che rappresenta gli ostacoli che la famiglia mette al soggetto pur di non farlo realizzare quindi potrebbe esserci con questo nodo nord se una persona non ha lavorato sulla sua personalità nonostante i transiti fantastici che ci sono insomma potrebbe esserci un dover fare un esame di coscienza insomma un bilancio un bilancio anche dal punto di vista caratteriale la sesta è il carattere ragazzi e passiamo alla questo valeva per l'ascendente capricorno ok passiamo all'ascendente sagittario l'ascendente sagittario che già gode di un fantastico sestile di giove saturno all'ascendente quindi insomma gli ascendenti sagittario sono in ascesa progressiva vedono il settore delle relazioni dei contratti della legge della legalità molto attivato allora non oso immaginare cosa sia successo nel 2002 con un saturno in settima casa con saturno mercurio venere io immagino che delle persone si siano separate probabilmente qualcuno si è sposato forse si è sposato tra di voi troppo giovani saturno in settima casa di transito se qualcuno decisamente troppo giovane può essersi pentito può essersi dovuto sposare perché magari c'era doveva c'era qualche motivo per cui doversi sposare oggi vi auguro che quelle associazioni quelle collaborazioni quei matrimoni siano andati insomma abbiano un bilancio positivo assolutamente anche se ragazzi diciamoci la verità una settima casa in gemelli a volte predispone a doppie doppi matrimoni doppie relazioni doppi contratti di lavoro quindi è doppia la questione è doppia insomma sono sempre dei settori un pochino poliedrici per accontentarsi di una persona sola quindi se avete avuto delle cause allora dei processi adesso si potrebbe chiudere la question vi auguro ma esistono anche persone che sono in causa da vent'anni contratti di lavoro collaborazioni società è molto difficile con i transiti che ci sono adesso che le chiudiate con un deficit con un bilancio in deficit negativo però dipende anche da voi e dal vostro tema natale quindi fatemelo sapere nei commenti perché poi cercherò di leggerli tutti siamo già alle 21.45 passiamo all'ascendente scorpione che ospita questo ritorno del nodo nord in marte in ottava casa e riceve un trigono di giove saturno dalla quarta allora qui ragazzi per l'ascendente scorpione il settore famiglia d'origine ed eredità è sottolineato proprio sotto i riflettori è probabile che vista la presenza di giove saturno in quarta casa sistemiate delle questioni legate alla famiglia d'origine ai genitori all'eredità che vi hanno lasciato alla suddivisione di esse o alla gestione di questioni ereditate ci sono esistono le eredità morali esistono le eredità caratteriale avete presente quelle generazioni dove c'è un difetto fisico c'è un modo di fare che andrebbe corretto ok all'epoca all'epoca nel 2002 con saturno signori con saturno sul nodo sicuramente è venuta è stata posta in evidenza una problematica anche una diatriba legata a questioni ereditarie può esserci stato un lutto l'ottava insomma quello è è anche quello non è solo quello spesso non è mai è solo quello ma potrebbe esserci anche quello e adesso forse è tutto risolto insomma siete riusciti a sistemare queste queste questioni queste questioni familiari queste questioni che sono venute a galla e il transito è veramente molto molto carino per voi quindi io vi auguro cari ascendente scorpione di aver sistemato le questioni familiari ed ereditarie ed ereditarie oppure se c'è qualcosa legato all'eros in qualche modo la famiglia quindi non so magari avete tradito oppure avete fatto una scelta dettata dalla passione passione fisica ragazzi ottava quello è avete l'appoggio della famiglia questo poi dipende dal tema natale insomma i distingue e le sottigliezze ma io credo che ci sia qualche questione relativa alle eredità e questo era abbastanza monotematico l'ascendente scorpione per via di saturno e giove in quarta spero che vi ritroviate allora passiamo all'ascendente bilancia l'ascendente bilancia è un altro degli ascendenti benedetti che infatti ho messo in top ten questa volta questa settimana ho avuto anche la luna piena la luna piena dell'anno proprio sull'ascendente quindi stratop grazie a tutto il cielo come si era sistemato l'ascendente bilancia ha visto chiudersi un ciclo che riguarda il nono settore quindi Marte e Nodo Nord si incontrano nel nono settore il nono settore è quello del superamento dei limiti personali quindi consapevolezza nuove consapevolezze nuove nuove informazioni avere accesso ad un sapere superiore quindi la nona casa appannaggio dalla laurea in su ad un sapere superiore ad un a nozioni a conoscenze che veramente vanno dalla conoscenza medio altissima al sapere extraordinario ok quindi tutte le persone che si informano che cercano di sapere che cercano la verità che cercano di sapere quello che c'è oltre a quello che banalmente magari i media ci propinano quello che banalmente la massa conosce sicuramente sono legati alla nona casa quindi studi universitari o e oltre conoscenze di alto livello crescita personale superamento dei propri limiti oppure molto semplicemente l'estero quindi aver conosciuto persone dall'est che vengono dall'estero essere andati all'estero quindi adesso si chiude un ciclo si ritorna a casa oppure ripartite ripartite da un'altra parte insomma queste sono le il bilancio è assolutamente positivo siete favoriti all'ascendente quindi c'è un miglioramento c'è una crescita magari dei professioni universitari che hanno la cattedra finalmente diventano come si dice strutturati può essere questa può essere un transito anche per i medici per chi fa ricerca per chi fa crescita personale insomma per chi per chi parte veramente se ne va o ritorna quindi è fantastica l'assist l'assist di questo superamento l'assist per evolvere per superare voi stessi vi arriva da saturno e giove in quinta quindi o l'assist vi arriva dai figli o da una nuova passione creativa o ragazzi da un nuovo amore quindi insomma io spero che possiate insomma le ascendente bilancia ci ci raccontino qualcosa perché hanno un cielo fantastico dopo insomma tre anni di saturno in capricorno quindi insomma il cielo ci chiede però poi anche ci dà nel senso che c'è il periodo della semina e c'è il periodo del raccolto e questo insomma per voi è il periodo del raccolto sono le 21.50 e passiamo all'ascendente vergine l'ascendente vergine vede gemelli nodo nord in gemelli e marte nel decimo settore quindi si sta chiudendo qualcosa relativo alle vostre realizzazioni professionali e personali quindi probabilmente legato alla carriera se nel 2002 volevate fare qualcosa probabilmente adesso vi siete tolti questo sfizio l'avete dovuto fare vi siete sacrificati tantissimo e adesso raccogliete i frutti e si capisce che è lavorativa e personale questa personale nel senso di lavorativa è legata a soddisfazioni personali relative al mondo del lavoro perché l'assist vi viene da giove e saturno in sesta casa quindi è tutta è lavorativa questa cosa se volete se volete si Elisa l'ascendente capricorno è stato fatto tre ascendenti fa spero di lasciarvi io spero sempre di salvare tutto pubblichare tutto spero che questa diretta non vada persa allora altrimenti la rifaremo quindi ragazzi l'ascendente vergine grandi soddisfazioni lavorative promozioni datemi le testimonianze datemi le testimonianze perché insomma questa è una grande fortuna lavorativa che ovviamente il ciclo si chiude adesso però grazie al trigono di giove e saturno alla decima ragazzi e anche alla seconda non ce lo dimentichiamo avete un 2021 fantastico passiamo ai 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 all'ascendente leone perché dico ai 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 l'ascendente leone ha saturno e giove in settima casa l'ai ai ai era quello quindi i rapporti interpersonali che arrivano all'esito insomma che vengono valutati molti si sposano molti si separano molti fanno nuovi contratti duratori ma perché tutto questo perché un assist è fantastico che giove e saturno dalla settima attraverso i contratti fanno è un assist fantastico all'undicesimo settore perché l'ascendente leone solo il leone prima ho visto qualcuno che mi chiedeva se vale anche per il sole no vale soltanto per l'ascendente questa cosa questo calcolo qui vale per l'ascendente il nodo nord e marte che ritornano in undicesima casa riguardano sì l'entourage e le amicizie perché insomma avere un'undicesima casa in gemelli rende la persona assolutamente socievole assolutamente bisognosa di stare di essere contornata di persone insomma qui è difficile che si tratti di un solitario un ascendente leone quindi qui o si chiudono delle questioni molto importanti poi dipende anche dai pianeti che avete in undicesimo settore o questioni molto importanti relative agli amici all'entourage alla classe a chi lavora in squadra a chi fa dei lavori in team si chiude un ciclo assolutamente in positivo e sicuramente si perdono si perdono delle persone e se ne aggiungono delle altre perché? perché Saturno e Giove sono in settima quindi qui si chiudono delle alleanze si chiudono dei contratti e se ne stipulano di nuovi e possono essere contratti lavorativi con un nuovo team possono essere sì sicuramente può essere il matrimonio ammesso che la persona abbia come progetto proprio di sposarsi no? perché magari chi si sposa per i figli un undicesima casa in gemelli può essere una persona che si sposa per regolarizzare insomma per questioni legali legate ai figli quindi nuovi contratti nuove nuove squadre nuove entourage e insomma il transito è molto bello dura un anno questa cari ascendente leone raccontatemela raccontatemela perché ci sono dei progetti che realizzate anche grazie a nuove società insomma nuove stipule e quindi nuovi contratti e passiamo all'ascendente cancro ragazzi l'ultimo l'ascendente cancro che vede il ritorno di nodo nord e martin gemelli nel dodicesimo settore che è il settore della spiritualità ed è il settore dell'inconscio diciamoci la verità un ascendente cancro è probabile che a meno che non abbia il mondo in undicesima casa più che una questione spirituale può avere a che fare con questioni psicologiche perché un inconscio in gemelli mi sembra molto cerebrale molto più legato a una risoluzione attraverso la parola la comprensione insomma tendenzialmente poi dipende da che pianeti ha una persona insomma quindi si chiude un ciclo si chiude un ciclo iniziato nel 2002 un ciclo che probabilmente ha segnato una forte crescita ragazzi all'epoca attraverso qualche prova attraverso un distacco attraverso attraverso la sofferenza e adesso però se una persona ha dato tanto se una persona si è guardata dentro se una persona è riuscita a dare importanza allo spirito e non alla materia perché la dodicesima casa è questo dare voce al risveglio interiore alla voce interiore alle sfere più alte della coscienza andando contro la sesta casa che è quella opposta alla dodicesima che insomma ci vuole materialisti persone che hanno una sesta casa affollata e una dodicesima vuota probabilmente soffrono perché perché hanno un richiamo al materialismo alla quotidianità all'abitudine quindi al non cambiamento molto forte e quindi lo sforzo che devono fare per guardarsi dentro per andare oltre tutti quei quei difetti caratteriali anche che i pianeti in sesta casa propongono alla persona quindi deve fare uno sforzo grande per guardarsi dentro perché insomma la materia la concretezza li chiama ok quindi chi riesce solitamente con tanti pianeti in sesta casa a fare a guardarsi dentro a volte lo fa perché è messo con le spalle al muro da qualcosa che lo fa star male magari anche da problemi di salute perché la sesta casa è anche lo stile di vita uno stile di vita che se la sesta casa è affollata è errato proprio perché rappresenta tutti quegli ostacoli della personalità del soggetto che vanno contro di esso quindi adesso si chiude un ciclo che se vi siete impegnati ad andare contro contro la materia siete andati contro anche i vostri interessi perché insomma la materia è quello ragazzi e l'egoismo chi riesce ad andare anche contro i propri interessi per fare la cosa giusta per guardarsi dentro chi riesce a mettersi in discussione adesso con il ritorno di Marte e Nodo Nord sul 12esimo settore Trigona, Giove, Saturno dovrebbe vedersi elargire dal cielo e anche insomma sì dal cielo ragazzi perché Saturno e Giove sono in ottava grandi doni veramente grandi doni quindi anche materiali perché quando una persona risolve la sua interiorità non credete nell'interesse di tutti dovremmo farlo tutti perché quello che migliora è il mondo materiale se tu risolvi dentro migliori fuori questo non viene ben recepito a volte fare le cose spirituali le cose di crescita sembra una palla così per la gloria degli angeli e dei santi in realtà è la cosa più concreta che uno possa fare perché perché mollando le zavorre la mongolfiera sale 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 e quindi si alleggerisce si alleggerisce la vita si alleggerisce la matrix quindi ragazzi forza e coraggio e iniziamo siamo arrivati alla fine spero di aver detto tutto spero di aver visto di aver come dire enunciato ho numerato tutte le possibilità di questa combinazione che è comunque molto molto fortunata e che caratterizzerà questo 2021 e anche gli anni a seguire anche se c'è il trigono di Saturno quindi non siamo condannati a sette anni come fu all'epoca e adesso leggiamo le vostre le vostre testimonianze allora rispondo a Beauty Moment che mi dice che il suo nodo nord a cavallo fra l'undicesima e la dodicesima allora in questo caso ascoltate entrambe quando un valore un transito avviene a cavallo fra due case vale in entrambe poi ve ne accorgerete voi quale delle due lo ha recepito meglio ma leggete tutte e due le previsioni allora Paola Vandinci dice Ascendente Scorpione confermo per le rarità vai spero che sia buona insomma e che non sia qualcosa di doloroso confermo che l'introspezione mi ha aiutato moltissimo a migliorare tutto della mia vita e della mia persona si sceglie il karma con l'introspezione ragazzi Lizzi dice ieri ho ricevuto la chiamata ora devo decidere se continuare con il mio vecchio Tim ma io non me la sento non saprei che dirti ascolta il cuore ragazzi la voce mi ha abbandonato Gabriella non ti preoccupare se avevi nove anni non era non era questa la cosa più importante per te avremo altri transiti Lorenza ci dice nel 2002 cambia lavoro ragazzi fra un po' lo cambio anch'io allora ragazzi siamo arrivati alla fine le testimonianze sono state date io vi ringrazio vi saluto ci vedremo nei prossimi giorni per una nuova diretta spero di avervi insomma rappresentato al meglio vi ringrazio tantissimo e ci vediamo alla prossima e cercherò di mettere questa diretta su youtube ragazzi vi auguro buona serata e grazie per essere stati con me ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti